ben trovati sul canale youtube di omeko io sono federico e oggi mentre mi gusto un buon caffè andiamo a vedere come lavora un bellissime cr58 di volvo con un martello demolitore mentre va a demolire il nostro piazzale dedicato ai clienti perché lo facciamo nuovo andiamo a insieme a 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